Sono quattro gli autobus organizzati da ogni singola vicaria, Castrovillari, Cassano, Trebisaccio e Oriolo, per recarsi a Cerignola ad assistere all'ordinazione del nuovo vescovo di Cassano, Monsignor Nunzio Galantino. Partenza alle 8, da Castrovillari, da San Girolamo, dove si ritrovano sacerdoti e laici. Una bellissima e serena giornata li accompagnerà dalla Calabria attraverso la Basilicata, nella regione che ha dato ai Natali al suo nuovo pastore. Ma prima di arrivare nella diocesi di Ascoli Satreano a Cerignola, tutti i pellegrini della chiesa cassanese si ritrovano al santuario incoronata di Foggia, dove, accolti dal rettore Don Felice Bruno, affidano alla Madonna col bambino, apparsa ad un conte nel 1001 in un bosco di Foggia, le loro intenzioni personali ed anche le preghiere per il nuovo vescovo. E' qui che l'amministratore diocesano di Cassano, Monsignor Francesco Oliva, rende bene il concetto di un popolo in cammino verso la chiesa, che ha originato il nuovo pastore della millenaria diocesi del Nord Calabria. Diciamo che è un popolo in cammino, ben rappresentato quest'oggi, un po' da tutte le parrocchie della diocesi, desideroso proprio di vivere questo evento importante per la nostra chiesa diocesana, l'ordinazione del nostro vescovo Don Nunzio Galantino. Quindi questa gente si è mossa stamattina con grande entusiasmo proprio per essere presente, è un momento importante per la nostra chiesa diocesana. Prima di ripartire per l'artesa cerimonia c'è il tempo necessario per condividere in allegria il pranzo a sacco nei locali dei seguaci di Don Orione ed anche per scambiare qualche pensiero sull'avvenimento al quale non è voluto mancare anche chi presta servizio fuori regione. Sì, ora sono in Abruzzo, sono già da nove anni, cappellano militare, però mi piace e sento questa appartenenza comunque alla diocesi dove ho ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Faccio questo servizio con i militari, in questo caso dell'esercito nelle terre d'Abruzzo, all'Aquila, però ritengo che sia importante anche conservare e vivere l'appartenenza al proprio territorio e alla propria diocesi. Spero che questo sia un momento di incontro per noi, anche per noi sacerdoti e per noi laici e sacerdoti impegnati della diocesi. Nello stesso tempo è anche un'occasione per conoscere, incontrare questo nuovo vescovo, Don Nunzio Galantino, che sarà fra qualche ora Monsignor Nunzio Galantino, vescovo di Cassano Ionio, anche perché come guide e pastore di questa nostra diocesi di Cassano Ionio è fondamentale che senta l'abbraccio di tutta la diocesi. Grazie a tutti.